Ciao gente, sono Xanakobi e oggi siamo tornati su The Outlast Trials Hanno messo nella mia stanza, suppongo anche in tutte le altre, un tema ad Halloween Mi piace, è molto carino, davvero mi piace, mi piace Ehm, sì, non penso ci siano altre costumizzazioni a parte le cose da VIP Quindi, non era il tasto giusto, ok Oh, posso chiudere la porta? Che bello Ok, e sì, è sempre la mia stanza questa Credo, no, non era questa Ok, quindi va a scorrimento la stanza propria Comunque, mi piace, è tema Halloween Ok, siamo qua E non so se, ok, non so se sono l'unico in questo momento Ok, non sono l'unico, per fortuna E a quanto pare le stanze scorrono e a scorrimento Ah, super facile Però Vediamo un po' Ok, quindi le stanze Cioè, le persone qui presenti sono solamente queste Io e altri due Di cui uno ha fatto parecchie ore Ok, di allenamento Non capisco Vabbè Ehm Intanto scegliamo il nostro superpotere Che sarà Ok, facciamo dell'accecamento Comunque Ci hanno appena invitato Un player di qua Sarà sicuro Oh, non ho disattivato la shot Vocare Ma ho disattivato No Ho messo il push-talk Spero Ok La nostra prima missione è in collaborazione con i tre Di cui lo sciarbono è invitato Ok Siamo l'esterminatore Solo noi possiamo dire cosa è vero C'è uno snitch dentro la presenza Preparando testificare contro la nostra verità Mazzate lo snitch E vi lascerò Ok Spero non sia difficile come missione perché E spero che non sia diversa dal distruggere i documenti Ma almeno è troppo Dato che è la prima Porca miseria Che giochiamo Alla fine che potere ho scelto Ho scelto il potere della nebbia Non ho avuto un gran che di tempo per scegliere Vabbè c'è uno tra di noi che non ha nemmeno il potere Quindi però Ok C'è stato messo C'è questo? Dunque, sono con sta gente Oh, che bello Eh, sì, non so cosa fare Oddio, easy, easy C'è scritto easy Ok Noi procediamo Infiltriamoci Nella stazione di polizia Uno si è beccato un destro Tips, ok Pingare Pingare specializzati E droppare l'item Si può scivolare Mi ricordo Stazione di polizia mi ricordo Aiutiamolo Ok Mi ricordava, stavo dicendo La stazione di polizia, quella di Raccoon City Non vedo nulla Giustamente abbiamo la flashlight Non so di preciso Siamo Andando, noi corriamo Come si Non c'era un modo per sfondare Oh 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 Ok E' una cosa alla Ho fatto bene a guardare quello che Ha fatto quello davanti Si è crusciato Per evitare le scatole di Le canne I contenitori di fagioli Ok Noi siamo salvi E' anche lui Era il primo ostacolo A raggiungere la security room Dimentico Noi dobbiamo ammazzare quello Come lo ammazziamo? Obedisce la legge Orca madre Andiamo a prendere lo snitcher Ok queste sono tipo Delle porte scorrevoli Sono porte a rotondazione Oh Uno snitcher forse Ok Non si può spingere Qua è dove si trovava Lo snitcher Non dovremmo spingere Ci sta quello che è tipo il pro E sa quello che sta facendo Abbiamo un Cos'è? Un lock kick Abbiamo un coso per smontare le cose Noi seguiamo il gruppo La base Aiutiamo a sollevare Oh grazie Oh grazie mille amico E tu? Ok Non c'è un coso Andava qui l'indicatore Ok Qua abbiamo un coso per chiudere Nel caso Ma io voglio seguire gli altri No Non voglio di andare da solo Aiutatemi Aiutatemi Grazie Oh grazie mille Ok questa non era di sicuro La strada da fare Noi avanziamo Sì avanziamo Ok sta quello Quello è lo snitcher Qua appena ha rotto una bottiglia Sto tizio Perché? Oh c'è un coso Non adesso Scherzavo Non adesso Non adesso Ok è lì Questa è una porta chiusa Io sono morto Se viene qua Ah posso nascondervi qua dentro? Eh nascondiamoci Io direi a suo punto È un goccio buio Qua dentro C'abbiamo anche Una roccia speciale Ah è l'ultimo Ok è andato via Devo smetterla di sprechare la torcia Ok come Ok pensavo dovevo tenere tutto La luce che mi serve Una cosa Non mi piace sta cosa Perché è diventato tutto rosso? Perché gli altri sono avanzati senza di me? Sono lento Scusatemi Sono lentissimo Ok Stai in quella stanza Ok Ok Oh 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 Ehi Non, non, non Quattro di aiutare quella persona Ok È schifo Ok Abbiamo caricato la nostra batteria Anche se non so di quanto Qua come Ok Come Scusatemi Ok C'era un tasso giusto Qua troviamo altri oggetti Magari un pochino di batteria Oh ok Ci sono obiettivo da fare Credo Non so dove Di preciso Non capisco un gran kit di roba qua C'è qualcosa Oh abbiamo trovato un altro lockpick Via 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 Ok non mi rimane più chissà quanta batteria Abbiamo aperto Uno in più Ok E' lui l'impostore Abbiamo coso di cura In effetti potevo anche non sbloccare Dato che non mi serve Chissà quanto Come faccio senza batteria? Non si può caricare Un altro lockpick Lo scambio con Non ho idea Non so nemmeno quali sono gli oggetti che sto prendendo Però al buio si vede un sacco di roba in più Ci sta una batteria a giro C'è qualcosa lì Altro alcol Benzina Benzina Altro medikit Io ce l'ho la cura Io ce l'ho la cura Piccola medicina Lockpick Orco Ok Ma che abbiamo startato i generatori E' un peccato che non riesco a trovare una luce Questa è altra No è una bottiglia Ok Per distrarlo Un'altra bottiglia Ok Ci stanno tutti gli altri Noi siamo parecchio Parecchio pazzi Qua c'è da Nascondersi Il rig ha già caricato il rig Che non ho idea di cosa sia Però Ok Con quale Ok voglio sbloccare Giusto Questo qua Per vedere cosa c'è Ora è un'altra batteria da usare subito Questa è la batteria Ok Cosa dobbiamo fare? Non ho capito Lì ci sta un'altra cosa Ok ci siamo caricati la batteria Ciao Pedale Hasnistro Oh Cosa È ilofi Cosa 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 Oh Oh O Oh Cosa 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 Aiutiamoli, dai, su, su, su Ok, sono passato Ah, beccati la bottiglia Come si lancia tutti? Ah, ok Solamente adesso so come si lancia Ok, abbiamo Abbiamo Risolto, cioè caricato la cosa delle batterie Allora dobbiamo tornare indietro nelle nostre celle E' abbastanza easy, direi L'unica cosa per la salute mentale non ci sta Chissà cosa da Oh, ci penso io Ci penso io a spingere lo snitcher Ah, lo snitcher, ok Lo snitcher Pensiamo a trasportarlo Fa male Essere uno snitch È la cosa sbagliata, andiamo Ok, più di così Non possiamo Abbiamo bisogno di una chiara per aprire la porta E intanto apriamo un po' le cose a giro Una batteria? Ma ha rubato la batteria Ah, beh, dai, gliela concedo perché ce l'ho Abbastanza alta Abbastanza non vuol dire completamente Abbiamo qualcosa Io ancora non ho capito cosa sono i rig Magari è per la ulti Non l'ho ancora usata Teniamocela in pro Non dovevo fare rumore Però lui non si trova qui tecnicamente Oh, è difficile vedere Scusatemi Poliziotti È difficile vedere nel buio E giustamente c'è la porta Misteriosa Ah, che schifo Ok Vediamo se qua ci sta qualcosa Altro Che possiamo fare Ok Pensiamo a spingere Troviamo le altre chiavi Oh, è, è, è Ok Per me, se non ci sta No, vabbè, però dai Andiamo a cercare le altre chiavi Che sono tre chiavi? Cos'hai? Oh, io scappo Non mi interessa Ok Ci sta Il porco No Ci sta il poliziotto lì Abbiamo delle bottiglie Qua abbiamo qualcosa a disposizione Non penso nulla Ok, come, come Si picca Oh, ehi, ok Ma Ma che cazzo Ok Abbiamo l'impostor Che non ho idea di come funzioni Qua abbiamo qualcosa Una bottiglia In effetti potremmo anche Swappare contro C'è lì Magari lo aiuto Non ha aiutato Vabbè, sentite io Intanto che voi lo distraete Continuo a spingermi Perché Perché sì Che cazzo Che è male Eh, fa male Pensa noi Che siamo costretti ad aiutare Uno come te No, dai Scusate Ma Avremo davvero bisogno Della chiave Delle tre chiave Dunque Apriamo lentamente la porta Di questo bagno Qua abbiamo un Adrenalina Non penso che adesso ci servi Le apro tutte lentamente Perché Fanno meno male In silenzio Piano Sembra essere andato via È andato lì dentro Se sbuca Io Desapare Sì Ok, hanno pingato lì Una cura Il che servirebbe Oh Fortuna che non l'ho Non l'ho attivata Cioè nel senso che non l'ho beccata attiva Oh E cosa? Cos'è? Io il rig Non so cosa sia Penso sia Il caricatore dell'ulti E un'altra adrenalina E un'altra adrenalina Qua come faccio a piccare? No, no Qua picchi e basta Ok Non è chissà quale picca Oh 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 Ok Credo che quella sia un'allucinazione Ma gli altri Gli altri Quella è una mina Ah Andare sopra il tavolo Ok Gli altri Non stanno trovando Gli indizi No? E quello sta anche morendo Ehm Sì Ok Spero che riuscirò A fare la prima missione Ok Abbiamo trovato Il primo indizio Qua ormai La batteria è andata Un po' Della mia visione È un po' A merda E Abbiamo trovato La prima chiave E anche Un Un altro lockpick Il Il Ciò è davvero utile Per L'abbiamo presa La chiave Sì È un po' Brutto Cioè A parte Non ha un gran Di senso Il fatto che Anche se Si consuma La batteria Qua abbiamo preso La chiave Da questo tizio Però mi dà solamente Una clue E basta Oh Ok Lì non andiamo Che facciamo rumore C'è una bottiglia Di vetro Abbiamo un mattone Ok Un'altra prova E siamo A due chiavi No Non è una chiave O non è Trovassi Un Medikit Sarebbe tutto Molto meglio E qua È già stato Scoperto A quanto pare Credo Non si può aprire Qua c'è un amico In difficoltà Ok Questa è una cura Ok È utile Utile E qua Abbiamo Con il lockpick Che abbiamo Cos'è Due cose Che ci servono Uno è Quello mentale L'altro è Altra cura Non c'è la porta Oh, c'ha visto. C'ha visto? Scorzavo, corriamo, scappiamo. Tecnicamente abbiamo trovato già una chiave, ma ce ne mancano altre due. Oh, comunque, no, abbiamo... Arca miseria! E lasciami stare, è scritto. Ok, il gate 2 è quello della chiave, cioè la chiave del fuoco, che abbiamo noi. Quindi apriamo la noi subito. Qual è? La chiave 3, la chiave 3. Qua abbiamo cosa? Una bottiglia di vetro? La chiave di fuoco che abbiamo già. Qua non possiamo tirlo. Il rig è il rig. Quella del picche? Ci manca la chiave di picche. O ce l'ha qualcuno di voi e... Non lo so. La chiave di picche. La chiave di picche. Perchè un po' di nascondersi. Chiamiamo la chiave di picche. C'è un po' di frano. E... Non può passare qui sotto Lockpick, abbiamo bisogno del lockpick Uff, è davvero difficile quando ci sta la tizia del gas Cos'è qua? E io scappo Lo sento che è da qualche parte E sono due Un modo nell'altro, bisogna morire, vero? Nascondiamoci Non puoi nascondermi Cioè, non puoi acchiaffarmi se... Eh, nulla Siamo morti Oh, dai, lasciami vivere Non vedo nulla, non capisco nulla Ok Noi scappiamo nel loop Oh, hey No, 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 no Ok Per sicurezza chiudiamo anche E non ci possiamo nascondere No, eh Dai Solleva Passiamo dall'altra parte Perché è stata una brutta idea venire qua Però qui in compenso abbiamo la donna del gas No, io ho paura di andare ad assorbere Bisogna Bisogna elettrificare il... Pizzo Oh, eh, mia mazza L'unica cosa che non ho capito E... Questa cosa dell'intruso tra di noi Siamo in quattro Capirei se uno di noi quattro vuole sabotare Quindi amogas E... Però... Non lo capisco Ok, però almeno non mi hanno wallshotato del tipo che Deve esso esserne interessato Oh, grazie mille Sì Utilizzare l'ulti prima o poi La chiamo ulti perché... L'altra più chiara... Qua chiudiamo a chiara per sicurezza Eeeh, dell'altra più chiara Ok, cosa dobbiamo fare? Per avere la chiave Let's go Scappiamo 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 Oh sì, cos'è quel gas rosso? Non mi piace Oh, l'adrenalina Oh sì, adrenalina Non so se dobbiamo seguire la... La griglia o no Io la seguo Non la seguo, non è la griglia che dobbiamo seguire Non qui, non qui Non qui, non qui Non qui, non qui Ok, scusa, scusa Scusate E in effetti è vero, questo è il punto di inizio E me ne sono reso questo E adesso Qua c'è un pazzo nudo Ok Fammi correre, fammi correre Abbiamo bisogno dell'hawk pit Bisogna uscire dal trial Questa è la base finale Ah, eravamo da dove siamo arrivati Ok Fattibile Easy Ce la siamo rischiata in easy Sì, me ne vergogno E... Fattibile Completata in meno di mezz'ora E... Ok, ci sono ancora delle cose che non capisco perché... Ci sarà fissio del gas Poi... L'intruso Olè Rieccoci nella nostra base Nella strada della nostra base Della nostra base Ok Ci hanno appena invitato Datemi un secondo Volevo vedere un attimo qua Se posso... Tanto lo vedete nel prossimo video questo Ciao 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 Ciao